pronto ciao come stai tutto a posto sì sì no ma che io sto a casa da una quindicina di giorni che in collega era positivo mi hanno messo smart working un po capì guarda mamma mia che stress a casa davanti al computer sì ma sì tutto a posto comunque sì mo tornata a vedere ieri una bella notizia mi hanno accreditato pure lo stipendio visto a posto chi ci ammazza noi è già davvero e viva l'italia è grande ciao bello ciao scusa che ti è successo come mai ti sei ridotto a chiedere l'attività ero un artigiano poi è subentrato il covinte le restrizioni tutti i clienti si sono messi in malattia ma loro erano pagati io ho dovuto più dell'attività e non so più che fare mi dispiace tieni grazie infinite grazie buona giornata anche a te ciao